start recording perfetto buonasera guerrieri episodio numero 3 di stay frosty tutto quanto quello che dovete sapere sull'arrivo di modern warfare 3 stavo bazzicando su x la piattaforma di ilon musk e andavo a vedere quali erano le novità per quanto riguarda gli aggiornamenti del driver grafico nvidia e hoplala cosa hanno postato quattro ore fa call of duty modern warfare 3 rtx on con nvidia dlss 3 e reflex attivo hanno postato una tabella con la raccomandazione di tutte quante le specifiche tecniche che adesso ci andiamo a cuccare insieme per vedere esattamente quali sono i consigli tecnici che ci danno per le varie piattaforme quindi allora partiamo a bomba per quanto riguarda il minimo indispensabile per poter giocare a modern warfare 3 consigliato da activision e ovviamente quando dicono il minimo è vero cioè non basta non basta esatto cioè non basta mai allora per giocare soltanto al multiplayer the minimum specification needed to play the multiplayer mode allora vorrebbero una gpu almeno una 1650 o una 960 io raga ve lo dico non vi basta una 1080 ti ai per far girare discretamente il multiplayer poi sistema operativo almeno un windows 10 64 bit aggiornato all'ultima versione una cpu un intel i3 o ryzen 3 di sesta generazione addirittura lì 3 ram 8 giga poi asset cache più di 32 giga asset che significa la memoria che deve occupare sull'hard disk per 32 giga video memory 2 giga quindi la scheda grafica deve avere almeno 2 giga e lo storage type ti chiedono di avere un ssd quindi non un hard disk di vecchia generazione ma una disc a stato solido che è più veloce poi size on disk complessivo 79 giga 34 se c'è già installato code hq quindi perché già ci ha installato tanta roba questo solo per il multiplayer andiamo a vedere invece per quanto riguarda le specifiche minime per giocare solo per giocare quindi dicono questo per il multiplayer ma per giocare che cazzo significa quindi anche per il multiplayer le specifiche sono la 1650 invidia key force o equivalente poi abbiamo equivalente intendo un'altra radio che abbia più o meno le stesse performance sempre windows 10 16 64 bit aggiornato all'ultima update il minimo consigliato per multiplayer e tutto è un i5 6.6 con ryzen 5 1.4 non basta nemmeno questo 8 giga di ram up to 32 giga per l'alta risoluzione la cache ad alta risoluzione 2 giga di memoria video ssd 149 giga con warzone installato queste sono le specifiche minime ovviamente poi sono le raccomandate le raccomandate sono quelle reali sono quelle che vi dovete dove vi dovete basare per sapere se allora le raccomandate spec to play a 60 fps in più o meno tutte le situazioni con tutti i settaggi ad alto quindi qua significa che quelle due precedenti che abbiamo visto i settaggi sono a niente se avete questi settaggi qua mettetevi il cuore in pace o fate un piccolo upgrade oppure almeno della ram e soprattutto della gpu della della cpu diciamo che farò un video dove vi farò vedere quali sono secondo me il livello minimo essenziale per poter avere un pc spendendo il giusto e quindi cercando di avere un pc che performi decentemente non spendendo l'ira di dio uscirà prestissimo questo video quindi rimanete collegati a questo canale lasciate un like un follow condividete questo video per sapere tutte le informazioni quindi specifiche tecniche pc che possono performare senza spendere una follia e ovviamente adesso andiamo a vedere la parte di mv3 quali sono le specifiche tecniche richieste da da activision quindi per quanto riguarda le raccomandate per andare 60 fps un i7 6700 un ryzen 5 1600 x ovviamente anche qui sono veramente molto molto bassi però qua ci dicono per stare a 60 fps in quasi tutte le circostanze non sarà mai così 16 giga di ram 32 di alta risoluzione per le per la cache alta risoluzione 8 giga di memoria video ssd 149 giga totali di spazio occupato da kodak a q e warzone queste sono queste sono il minimo raga questo quello che vi dico è questo il minimo raccomandato 1080 ti 30 60 con questa configurazione fate girare decentemente multiplayer campagna è anche un po warzone per quanto riguarda competitivo 4k ultra è una cagata quindi invidia geforce 30 80 470 windows 10 64 bit all'ultimo aggiornamento la 11 a 64 bit vi consiglio vivamente ancora per qualche mese di rimanere a 10 non fate l'aggiornamento a 11 non ne vale la pena intel 7 8700 k quindi una generazione 8 veramente troppo troppo lente queste cpu una e un ryzen 7 2007 comunque sia si sono tenuti molto bassi sul competitive 4k ultra queste specifiche per giocare in alta risoluzione i refresh monitor or to run ok quindi dice questa questa configurazione per giocare con un alto refresh quindi sopra i 60 fps o in 4k va bene comunque sia 16 giga 64 di giga di altre cache di spazio per l'alta risoluzione 10 giga di dv ram ssd 149 le mie i miei consigli sono almeno un i5 12 mila o 13 mila un ryzen 7 però almeno di un ryzen 7 di ultima generazione non il 2007 perché se no non tiene il passo una ghi force dalla 30 70 in su van tutte bene vi consiglio la 40 60 che è più o meno è quella via di mezzo che vi da frame generator dl ss 3 eccetera eccetera quindi è quella che qualità prezzo in questo momento vince su tutto ovviamente non costa due lire però quindi se ve la potete permettere è una gran bella scheda e almeno almeno 16 giga se non 32 e ovviamente la ram se potete adesso che sono abbassati i prezzi la ddr 5 che con 170 euro vi portate a casa un bel pacco di memoria e questa era soltanto la specifica tecnica siamo a sette minuti andiamo a vedere un'altra cosa importante aggiornate i driver all'ultima release disponibile perché è stata rilasciata da nvidia l'ultima release del ovviamente dei driver nvidia per l'appunto verranno rilasciati anche quelli md quindi andate a vedere sempre sul nostro sito tech power up e andate a vedere esattamente che cosa è uscito adesso abbiamo di forse la 546.01 che quella che stiamo vedendo adesso non questa ma questa chiudo questa altra ok è praticamente è quella che ci permette andiamo sul sito di force puntocom e andiamo a fare la ricerca per scaricarci 4090 eccetera eccetera avvia ricerca farà la ricerca e ci dirà quali sono i driver disponibili 546.01 non scaricate in video studio andiate a scaricarvi il driver sparatevelo sul desktop se in questo momento avete un'installazione fresh del computer fate semplicemente installazione ve la faccio vedere velocemente così fate scompattare tutto fate l'installazione pulita dei driver ma senza fare il ddu quindi senza utilizzare il programma display driver un installer che vi ho mostrato più e più volte su questo canale quindi non utilizzate il display il display driver installer ma installate semplicemente il nuovo driver su quello vecchio però facendo sempre l'installazione pulita e installando sempre soltanto il driver grafico in video non installate mai in video più di force experience a meno che non utilizzate lo scedo play per catturare momenti salienti delle partite e vi serva per creare contenuti non vi serve la giforce experience perché vi appesantisce di brutto tutti i processi soprattutto se ne avvertitamente attivate i filtri quindi fate driver grafico in video accetto e continua ovviamente a me metà sempre questo cazzo di errore e non me lo toglierò mai più personalizzazione avanzata avanti andate a cliccare su esegui un'installazione pulita e fate installare tutto ex novo e andate avanti adesso non lo faccio perché sennò mi crascia tutta quanta la live e anche la registrazione quindi questa è la procedura che dovete fare per installare il driver la stessa cosa vale per amd torniamo qui su tech power up e intel aggiornate all'ultima versione disponibile per andare al 100 per cento su mv3 le cagate che sentite dire in giro se aggiornata quello più nuovo si blocca perdi fps solitamente i driver che vengono rilasciati a meno che non siano buggati hanno degli incrementi di performance sui titoli che ovviamente godono di questo rilascio se andiamo al download della della schermata vediamo che appunto questo driver è stato rilasciato proprio per inserire all'interno di modern warfare 3 anche di the sync di jazz ante di robocop di rog city la tecnologia dl ss 3 e quindi anche il frame generator che ci porterà ad un incremento di frame di prestazioni di stabilità e di fluidità del gioco quindi installate sempre l'ultimo driver disponibile perché è la scelta migliore per avere sempre il top delle performance non a meno che veramente non vi dica io ragazzi tornate indietro a quello precedente perché questo qui era buggato mettete sempre quello nuovo sempre quindi questo è il consiglio di base poi andiamo a vedere se c'era qualche altra notizia per il momento le notizie importanti erano queste ve le ho dette tutte spero di non essere andato troppo lungo sono dieci minuti vi ho detto tutto quanto quello che c'era da sapere per quanto riguarda quindi minimo delle specifiche tecniche del vostro pc per poter far girare campagna multiplayer e warzone vi farò poi un video dove vi parlerò di qual è la configurazione che dovrete utilizzare se potete comprarla durante il black friday soprattutto per poter spendere il meno possibile avere una macchina che vi dà delle performance della madonna e poi ovviamente per poterla sapere poterla conoscere questo video dovete collegarvi iscrivervi al canale e condividere che se non ve lo rilascio ciao grande brunello e quindi nel frattempo sono in live su twitch quindi se volete passarmi anche a trovare su twitch siete più che benvenuti quindi ricapitolando vi aspetto per il prossimo episodio di stay frosty questa è la terza puntata domani uscirà il la campagna single player di modern warfare 3 che sarà un open world che andremo ad esplorare guerriero per il momento ti aspetto alla prossima puntata questo è tutto keep fighting alla prossima